Eccoci bentornati su GoGames e siamo su TFD e in questo video andremo a vedere i reattori della settimana. Lo so un po in ritardo scusatemi purtroppo tra Wukong che è uscito e comunque il lavoro mi sono un attimino dimenticata e quindi scusate ma insomma cercheremo di non fare più tardi di così ecco scusate ancora. Detto questo prima di andare a vedere i reattori della settimana come al solito solito pippone sul codice creatore. C'è un po di confusione hanno cambiato le cose ma solo su pc cioè su pc semplicemente spingete il tasto tab credo per aprire la mappa andare su comunicazione trovare il nick cliccare e poi sotto trovate il tasto che vi dice supporta creatore solo che noi abbiamo il nick che è questo qui Harley22720 hashtag 3383 ma il codice creatore è diverso non so perché abbiano fatto questo casino adesso parleremo con l'assistenza per cui cercheremo un attimino di risolvere la situazione. Intanto se volete supportarci potete farlo tranquillamente andando sul sito nexon crearvi l'account collegarlo al vostro account se siete da pc da playstation 5 da xbox non cambia niente basta spingere start andare su opzioni andare nell'ultima scheda account e andare a collegare il vostro account nexon una volta collegato il vostro account nexon basterà andare sempre sul sito nexon sulla pagina dei creatori lì cercare il nostro codice creatore che vi mettiamo qui a schermo ve lo mettiamo in descrizione con tutti i link del caso cercarci lì e seguirci potete supportarci anche se non acquistate nulla se acquistate ci supportate ancora di più ma se non acquistate è lo stesso potete supportarci lo stesso per cui qualora voleste farlo grazie di cuore detto questo direi di cominciare apriamo la nostra mappa spingiamo r3 e andiamo a vedere i nostri reattori io direi questa settimana di andare a vedere qualche reattore iniziando con banni che ci dia la possibilità di utilizzare magari anche altre armi perché non per forza dobbiamo utilizzare il mitra magari preferite il destino di greg visto che ultimamente sta andando alla stragrandissima oppure anche le pistole come quella di nai zestra che non mi ricordo mai il nome mi ricordo solo nai zestra comunque fortissima anche quella per cui insomma andiamo a vedere qualche reattore per banni che non debba essere utilizzato per forza di cose con un mitragliatore quindi elettricità e ovviamente singola abbiamo colpi speciali e colpi impattanti quindi se non utilizzate il mitra con banni ma utilizzate o il destino di greg o comunque un'arma che monti colpi speciali o un'arma che monti colpi impattanti questa settimana avrete il vostro bel da fare abbiamo colpi speciali singola appunto elettricità alle rovine esattamente in questa zona qui e secondo me qui la missione migliore per andare a farmare questa questo reattore è questa qui sterminio come al solito ci sono tanti mob quindi un sacco di reattori mentre per quanto riguarda il reattore con i colpi impattanti direi bacino luna morta e in questa zona c'è sia una missione di sterminio che vi dà appunto la possibilità di droppare tantissimi reattori ma c'è anche questa missione qui che non è da sottovalutare perché anche qui arrivano veramente tantissimi mob quindi vi consiglio anche questa qualora foste interessati a un reattore che monti appunto colpi impattanti per la nostra banni è il turno di viessa giovani se usate una build che fa uso della sua ulti tra virgolette quindi che quella che fa parte delle abilità tecnologia quindi il suo vortice sostanzialmente abbiamo sia colpi generali qualora utilizzaste un mitra colpi impattanti e colpi speciali partiamo dal mitra ci troviamo all'osservatorio a gola bianconotte in questa zona qui e in questa zona abbiamo una missione che è disattivazione barriera che come sapete fa parte delle mie delle nostre missioni preferite per cui non posso che non consigliarvi questa missione qui per farmare questo tipo di reattore per quanto riguarda invece colpi speciali qui all'anda sterile zona ferriera abbiamo solo due missioni perché questa è una missione raccolta quindi proprio no e qui abbiamo hackeraggio ma meglio secondo me questa qui sterminio perché come ben sapete o disattivazione barriera o sterminio quindi vi consiglio di farmare questa missione qui per quanto riguarda invece colpi impattanti siamo a base delle dune quindi ad agios e anche qui abbiamo tre missioni disponibili la migliore manca dirlo è sterminio per cui vi suggerisco qualora voleste questo reattore di andare a fare a bomba questa missione qui qualora sempre nel caso di viessa utilizzaste invece la build fusione e utilizzate magari il destino di greg perché vi piace o qualsiasi altra arma che monti colpi speciali abbiamo questo reattore qui questa settimana quindi convertitore nella zona fortezza in questa zona qui non ci sono tantissime missioni in realtà abbiamo questa che è composta abbiamo questa che è sterminio abbiamo questa che è sempre composta manco a dirlo per me sterminio vince sempre su tutte se volete c'è anche per il lanciarazzi io con viessa sinceramente non lo trovo molto comodo non ha molto senso ma qualora voleste insomma usate una build fusione se volete c'è anche questa qui colpi a potenze elevate non credo che lo utilizzi qualcuno sinceramente ma per dovere di cronaca ve lo segnalo linea di difesa a fortezza sempre quindi nella regione di fianco anche qui è presente una missione sterminio quindi vi consiglio questa è il turno di blair giovini qualora utilizzaste un'arma che monta proiettili a colpi impattanti quindi quelli verdi di solito le pistole come già detto qui abbiamo un reattore dimensioni nella zona vietata qui all'anda sterile qui la missione che vi consiglio come al solito è questa qui sterminio proprio perché ci sono tanti mob come già detto un milione di volte ed è quella che sinceramente mi diverte di più si svolge all'interno di questa struttura e ha veramente tanti mob ora giovini è il turno di fregna qualora voleste un reattore che monta colpi speciali c'è anche per il lanciarazzi colpi a potenza elevata ma con fregna giovine non va tanto d'accordo secondo me non è comodissimo ma se usate un'arma che monta colpi speciali come sto facendo io e molti di voi in questo periodo come il destino di greg che sto buildando questo reattore potrebbe fare al caso vostro colpi speciali tecnologia a palude stagnante quindi palude dell'eco e qui non è che abbiamo queste grandi missioni perché abbiamo difesa e abbiamo sequestro multiplo tra le due sinceramente forse sequestro multiplo piuttosto che difesa non lo so sono brutte tutte e due giovini quindi scegliete quella che vi pare vi dico la verità sono due monnezze di missioni quindi non è che abbiamo vasta scelta per cui insomma vedete un po voi è il momento di sharen giovini e qui se avete un'arma con colpi generali per la build fusione che sinceramente è la build che mi piace di più al momento e sto cercando di fare quella ma non mi troppa la mod maledizione appena me la troppo me la troppo giuro che porto il video comunque colpi generali rifugio cadente sempre fusione qui a palude dell'eco e qui abbiamo diverse missioni da fare abbiamo sterminio quindi questa già di per sé è ottima dopodiché abbiamo anche raggio multiplo abbiamo raccolta proprio no abbiamo disattiva alimentazione e abbiamo ricerca tra queste ovviamente sterminio manco a dirlo dopodiché qualora montaste invece dei colpi impattanti nella vostra arma per il reattore a fusione abbiamo deposito qui all'anda sterile e qui possiamo andare a fare in realtà quello che ci pare perché queste tre missioni non sono proprio un gran che probabilmente tra le tre vi suggerisco questa semplicemente perché dura di meno quindi tra le tre insomma non è che abbiamo proprio una grande scelta di missioni con una marea di mob comunque se volete variare per non annoiarvi potete farle a rotazione magari scegliere quella che vi piace di più perché sinceramente tra queste tre non è che ci sia gran che da scegliere passiamo poi a Eugene senza tributo colpi generali fusioni lanciarazzi direi proprio di no lasciate stare quindi levette in questa zona qui a gola bianconotte abbiamo anche qui diverse missioni la mia preferita è disattivazione barriera quindi vi consiglio questa ci sono anche sterminio quindi o disattivazione barriera o sterminio meglio questa fidatevi oppure ci sono rifornimento sterminio e ricerca sterminio qui sono due arco trionfa sterminio solo due però non mi ricordo sinceramente quali tra le due è migliore comunque tagliate la testa al toro e fate disattivazione barriera che sicuramente è la migliore non mi ricordavo questa cosa delle due missioni sterminio nella stessa regione ma va bene lo stesso insomma però comunque disattivazione barriera giovini per questo reattore qui dopo di che passiamo a valbi abbiamo colpi speciali colpi impattanti colpi a potenza elevata no direi uno dei due quindi passiamo a colpi speciali senza tributo per una build che fa uso delle abilità dimensioni andiamo a vedere siamo all'anda sterile qui nell'area classificata e qui ci sono queste tre missioni composta tra queste tre missioni secondo me la migliore probabilmente è questa qui ma comunque le potete provare tutte c'è anche questa che magari dura un po di meno però non mi ricordo quanti mob spawnano qui in realtà credo che la migliore sia proprio questa qui quindi vi suggerisco di fare questa l'ho farmata diverse volte ed è secondo me la migliore anche perché si svolge qui dentro arrivano numerosi mob e dura veramente poco non dura dieci minuti durerà tre minuti quattro al massimo ecco dopodiché è il momento del buon Kyle quindi un reattore che abbia le abilità per tecnologia per cui colpi generali colpi impattanti e colpi speciali in base all'arma che usate questa settimana vi potete divertire avete tre reattori da poter farmare in base appunto all'arma che avete con il vostro Kyle partiamo da colpi generali la foresta dell'aurora qui a fortezza qui abbiamo due missioni veramente una più schifosa dell'altra è capitata in questa regione qui che ha queste due missioni veramente becere per cui insomma tra le due forse rifornimento non lo so fanno schifo entrambe quindi vedete un po' voi dopodiché passiamo a colpi impattanti grande piazza a Kingston e qui abbiamo una missione sterminio per cui manco a dirlo fate queste sicuramente farmerete tantissimi reattori dopodiché passiamo a colpi speciali senza tributo sempre per il buon Kyle nella miniera nel deserto Agna come vi pare a voi e qui abbiamo disattivazione barriera per cui fate questa qui e sicuramente non ve ne pentirete per quanto riguarda i reattori tecnologici giovani ho dimenticato di inserire anche Ajax e Luna quindi qualora aveste questi due personaggi questi reattori vanno bene anche per loro Ajax con le abilità tecnologia va a fare del danno sia con l'abilità del salto che quella della spinta se non erro e Luna utilizza la sua prima abilità appunto con tecnologia per cui se avete una build basata su quella potete pensare di andare a farmare uno di questi reattori qui che usiate un'arma o a colpi generali o a colpi impattanti o a colpi speciali non so farvelo rivedere perché l'abbiamo già visto con Kyle è il momento del reattore sia per l'epic sia per esiemo quindi tecnologico di fuoco se utilizzate un'arma che monta colpi generali andiamo al luogo di raccolta nella zona del deserto Agni appunto e qui abbiamo raccolta quindi anche no interruzione di trasporto e sterminio tra le tre solito sterminio se utilizzate invece colpi impattanti sempre tecnologia e fuoco ovviamente il lanciarazzi non lo prendiamo in considerazione ma qualora voleste utilizzare un lanciarazzi con uno dei due potete andare qui a fronda fitta nei vespri e qui direi magari di andare a fare questa missione qui di composta tra quelle che ci sono a memoria mi sembra la migliore o questa o questa qui a che raggio multiplo per quanto riguarda invece colpi impattanti quindi sempre fuoco e tecnologia andiamo a Kingston al teatro decaduto qui abbiamo o disattiva alimentazione oppure sterminio direi sterminio ma qualora voleste potete fare anche disattiva alimentazione scegliete un po' voi se non ricordo male abbiamo più o meno la stessa quantità di mob anche se io prediligo sempre sterminio giovani io direi che per questo video è tutto scusate ancora per il ritardo giuro che cercheremo di essere più puntuali ma veramente ci sono un sacco di impegni tra youtube e il lavoro ma appunto cercheremo di portare il video magari il giorno stesso al massimo il giorno dopo a sto giro siamo passati un po' oltre scusate ancora detto questo non vi preoccupate se in questo periodo vedete un po' di video su wukong o un po' meno su tfd semplicemente perché ormai su tfd abbiamo portato tantissime guide le trovate ovviamente linkate in descrizione nella sezione playlist del canale e stiamo aspettando il nuovo aggiornamento che ci sarà verso fine agosto per cui non vi preoccupate non abbandoneremo il gioco semplicemente ci piace variare per cui magari in questo periodo lo giocheremo un pelino di meno per dare priorità a wukong che a proposito è una figata dategli un'occhiata qualora vi piacciono gli action ma comunque riprenderemo anche tfd non vi preoccupate state tranquilli che continueranno ad arrivare comunque dei contenuti su questo titolo detto questo grazie mille per il supporto e vedo appuntamento al prossimo video